Il comandante del battaglione mi mandò con un plotone verso Stoccaredo. Avevo il compito di prendere collegamento con qualche reparto del nostro esercito che doveva trovarsi lassù e assumere informazioni sul nemico. Il sole era già tramontato quando caddi a nord di Stoccaredo su un battaglione del 301esimo fanteria. Lo comandava un tenente colonnello sulla cinquantina che trovai all'aperto seduto ad un tavolino improvvisato con rami d'albero, una bottiglia di cognac in mano. Egli mi accolse molto gentilmente e mi offrì un bicchierino di cognac. Molte grazie, non bevo liquori. «Non beve liquori?» mi chiese preoccupato il tenente colonnello. Tirò dal taschino della giubba un tacquino e scrisse «Conosciuto tenente Astemio in Liquori, 5 giugno 1916». Si fece ripetere il mio nome che io gli avevo già detto presentandomi e lo aggiunse alla nota. Per non perdere tempo io gli dissi subito la ragione di servizio che mi aveva spinto fino a lui, ma egli, prima di rispondermi, volle conoscere qualche dettaglio sulla mia vita e sui miei studi. Così seppe che era ufficiale di complemento uscito dall'università allo scoppio della guerra, ma era sempre la questione dei liquori che lo colpiva maggiormente. «Appartiene lei forse a qualche setta religiosa?» «No», risposi io ridendo, «e perché mai?» «Strano, eccezionalmente strano. E vino ne beve?» «Un po' a tavola, così, un po' durante il pasto». «Io ripetei le domande sulle posizioni nemiche e sui nostri, ma egli non aveva fretta, bevette ancora un bicchierino e mi accompagnò con passo lento ad un osservatorio distante una cinquantina di metri tenendo sempre in mano la bottiglia e il bicchierino. Per distrazione, certo, perché all'osservatorio egli non bevette mai». Grazie a tutti per la comunità,